la famiglia del reverendo nel 1716 17 nel vicariato di eppward in inghilterra risiedeva con la sua famiglia il reverendo samuel weasley i disturbi cominciarono con colpi che provenivano da tutte le parti dell'abitazione seguirono poi rumori vari e più complessi spostamenti di oggetti e levitazioni la famiglia del reverendo comprendeva sette figlie due delle quali nella pubescenza una di loro etti nel sonno aveva fremiti quando avvenivano i colpi ci sono relazioni particolareggiate dei fenomeni in numerose lettere dei membri della famiglia si va dal rumore di un'intera folla che batte i piedi al rovesciamento di una grande borsa di monete al rumore di un girarrosto a quello di un faligname che pialla delle assi a tre colpi e poi una pausa altri tre colpi e poi una pausa e questo per ore hattie weasley più volte fu levitata insieme al letto in cui giaceva perché commento perché grazie all'evoluzione raggiunta in quel tempo dall'umanità era possibile la manifestazione dei fenomeni fisici che servivano a scuotere l'attenzione della gente l'insegnamento che spiegava la vita individuale e collettiva sarebbe iniziato un secolo dopo grazie all'evoluzione raggiunta in quel tempo grazie all'evoluzione raggiunta in quel tempo